Provare in quest'ultima parte di puntata, un po' così tutta organizzata, insomma messa insieme man mano che riusciamo a raggiungere le varie voci, volevamo saltare da un piccolo comune ad un altro comune più grande, ma ritorniamo invece, saltiamo di valle senz'altro e siamo molto vicini qui a Noia dove trasmettiamo, Duiglio Canale viene riconfermato, sindaco di Luserna San Giovanni, allora lo salutiamo, buongiorno e congratulazioni senz'altro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora abbiamo appena parlato con Marco Ventre, sindaco di Villarperosa, anche in quel caso si trattava della terza riconferma e si parlava un po' di quali fossero i temi, le questioni importanti da affrontare per comuni relativamente più piccoli e soprattutto anche lontani dalle città, le aree interne, provo giusto a prendere spunto da quello che ci diceva Marco Ventre per poter capire se si possa fare un discorso comune, lui ci diceva assolutamente la nostra priorità in questo momento e l'urgenza principale è fare pressioni per questioni legate alla sanità, riuscire a mettere insieme i pezzi di questa sanità sempre più carente e assente soprattutto dai piccoli comuni, non so se anche dall'Userna San Giovanni sa questo lo sguardo. Sì, nel senso che la sanità è un problema nazionale, è un problema locale, le problematiche le conosciamo tutte e soprattutto le lunghe liste d'attesa, sono problemi in cui i comuni possono fare un certo tipo di pressione, soprattutto se i comuni lavorano di territorio, quindi se insieme in termini di unione montane i comuni, per noi, per quanto riguardano le unioni montane, riescono a fare un'importante pressione, che secondo me è molto importante da fare in questa prima fase, nel senso che ci sono nuovi assessori, non so se darà riconfermato o meno l'assessore alla sanità precedente, ma è il momento buono per fare comunque dei discorsi importanti. e un'altra priorità nostra però sono i trasporti, sono i trasporti perché in un qualche modo noi viviamo lungo una strada provinciale dove l'Userna San Giovanni passano circa 20.000 macchine al giorno, voi la conoscete bene e comincia ad essere più grosso. Siamo in quelle macchine. E quindi bisogna comunque tornare in qualche modo ad affrontare pesantemente il discorso ferroviario, che è stato abbandonato e che non dipende direttamente dai comuni, ma che comunque è un discorso da riprendere perché potrebbe permettere di scaricare un po' le nostre provinciali e soprattutto avere un effetto diverso sulle persone anche più anziane. è assolutamente un effetto positivo. Quindi non nascondo che i due grossi problemi sono quelli. Poi c'è tutta una serie di problematiche da risolvere proprio di tipo più comunale dove comunque il comune ha una maggiore capacità di gestione di quelle cose. I due grossi problemi secondo me riguardano viabilità e salute. Chiaro, chiaro. Quindi un altro elemento che emergeva da questa precedente intervista era anche l'impegno, lo sforzo, ma anche l'aspetto cruciale e un po' di collaborazione fra comuni. Quindi non soltanto un viaggio individuali, ma provare a portare almeno alcune istanze assieme. Non so se emerga... Allora, io sono stato dieci anni Presidente dell'Unione Montana, nove anni. E in questi nove anni è stato fatto un grandissimo lavoro. Nel senso che noi abbiamo ben compreso che qualsiasi nuova esperienza, nuovo progetto che passi attraverso il PNR e altre cose è un progetto che deve parlare di territori. E quindi che di fatto elimina dei campagnismi. Se mi permette Marco Ventre, nell'Unione Montana del Pinerolese, che ho avuto l'onore di presiedere per dieci anni, il dialogo fra i comuni c'è ed è importante e le scelte vengono fatte di territorio. Un esempio su tutti, non so, la piscina comunale di Luzern, di fatto rappresentava comunque un bene di territorio e si è deciso insieme agli altri comuni di destinare comunque un'importante parte del fondo FES sulla piscina di Luzern, riconoscendo una varianza di territorio. Perché solo così si riescono oramai a portare via, giustamente, portare in avanti dei progetti condivisi, sociali o meno, ma comunque progetti di territorio. Certo, certo. Non volevo eventualmente aprire nuove polemiche, Marco Ventre la poneva in termini simili, non ne parlava semplicemente a futuro, ma ne parlava anche come collaborazione che già esiste effettivamente e che sperava appunto che non si perdesse. Quindi questo era un po' lo sguardo. E visto che appunto uno dei temi di queste elezioni è il fatto che ce ne sono state tante, si è eletto il sindaco in tantissimi altri comuni, guardandosi intorno, ci sono reazioni a caldo, ci sono considerazioni da fare, si vede un qualche cambiamento importante in un segno o nell'altro, oppure sembra che la strada sia abbastanza quella della continuità? Io ritengo che la strada, perlomeno per quanto riguarda l'Unione Montana, sempre parla di territorio, sia assolutamente della continuità, nel senso che le persone sono da Villa Pellice a Torre Pellice, che sono state elette, sono persone che già prima erano in ritardo dell'amministrazione e comunque, ad esempio nel caso di Torre Pellice, il Marco Conio fa parte dell'amministrazione. Quindi da quel punto di vista lì continuiamo in un certo modo, poi uno porterà comunque delle idee nuove e diverse, però sicuramente in un segno di continuità. Quindi questo fa buon gioco a un'Unione Montana che è un elemento oramai troppo importante per i comuni. Però io vedo una buona continuità, poi teniamo conto che Angroni e Bibiana avevano già votato, Briceradio c'è stata la riconferma, Luserna c'è stata la riconferma, Luserna, come sono qui a dimostrare, c'è stata la riconferma, quindi si prosegue nella stessa linea, nella stessa indicazione. Chiaro, quindi questo è un po' il quadro. Allora chiaramente queste sono un po' le valutazioni che si fanno un po' a caldo, tutto poi andrà affrontato in futuro, quindi aggiungiamo questo tastello importante rispetto al macro argomento che avevamo introdotto nella mezz'ora precedente, quello appunto della mobilità e come ci faceva notare Di Locanale ci sono tante macchine che percorrono la Val Pellice, anche la mia macchina è quella di Francesco, sono quelle che percorrono la Val Pellice pur magari sognando un mezzo alternativo e il fatto che non ricare tanto sulla scelta dei singoli è proprio una questione di opportunità e di possibilità pratiche e logistiche. Allora questi saranno alcuni temi calvi, sulla quale senz'altro ci risentiremo in futuro. Ancora grazie Giulio Canale, ancora congratulazioni e ci sentiremo alla prossima. Grazie mille. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, grazie mille.